scusa ma guarda che qua chiamano la polizia ma non puoi cambiare nudo per la città scusami ma perché non posso? non puoi cambiare nudo guarda che chiamano la polizia guarda che chiamano la polizia non puoi camminare come tante reggisere ma scusa ma la gente ti guarda in modo strano perché effettivamente stai passando in mezzo alla gente nuda ma ci sono anche i bambini non puoi cambiare nuda così per la città ma non puoi camminare ma ci sono i bambini per la strada sono coperta no vabbè ragazzi questa è una cosa pazzesca assoluto uno scopo della diversità in pieno centro dove ci troviamo qua? c'è una cosa pazzesca non lo so ragazzi ma dove ci troviamo qua? scusate questa la abbiamo sparato su youtube dove stai? Lanciano dove? Lanciano è Lanciano dove stai con lei? è scremazzo non sto scherzando non sto scherzando beh siamo a Lanciano oddio santo questa è pazza nooo nooo ma scusami ma che non ti rivesti? rivesti ti scusami questa è pazza questa è pazza guarda perché se c'è caldo mi sale la pressione no vabbè questa è pazza questa è pazza c'è cammini per strada luda io non ci posso credere ma veramente non ci posso credere ma ti fremmi un attimo scusami ma perché ti sei spogliata? ma perché ho caldo scusa ma perché? non mi posso spogliare? ho caldo bella pressione cioè tu sei nuda? in mezzo Lanciano? sono nuda? sono nuda? sono nuda? no no per carina di Dio ci mancherebbe cioè questa è ma per favore e poi di questo cazzo di dono eh beh io sto pensando che non posso riprendere scusami no e chi me lo viede di riprendere? scusami no ma io ti riprende ragazzi ti riprenderò poi quella che fa no 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 no